Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi video acquisti tutto dedicato a Yves Rocher sono andata a prendere un pochino di cose che mi servivano e ho due sacchettini quindi adesso voglio condividere con voi tutto quello che ho comprato il primo prodotto che mi è saltato all'occhio è questa mousse idratante anti ricrescita che serve dopo la depilazione, quindi praticamente voi la mettete e in teoria dovrebbe rallentare la ricrescita io sono abbastanza contenta di provarla anche se sono una di quelle donne fortunate che ha bisogno della depilazione soltanto raramente perché a me i peli non crescono non so come mai però è così, soprattutto nelle gambe io praticamente la depilazione la faccio una volta all'anno e ne ho tre o quattro di numero, quindi sono veramente fortunata in questo senso invece nelle braccia anche se sono molto chiari e magari non si vedono tantissimo me ne crescono un po' di più, quindi io le braccia me le depilo e voglio provarla proprio sulle braccia per vedere se la ricrescita effettivamente rallenta poi ho preso due confezioni del mio prodotto top di Yves Rocher quello assolutamente preferito in assoluto che è lo struccante bifasico per trucco waterproof questo è l'unico che non mi fa bruciare gli occhi, io li ho provati tutti di tutte le marche possibili e immaginabili ma tutti mi davano comunque un pochino di bruciore agli occhi forse l'unico che si salvava un po' era quello di L'Oreal che mi faceva bruciare un po' meno però devo dire che questo invece non me li fa proprio bruciare per niente gli occhi quindi da quando io l'ho scoperto ho sempre usato questo, vado a comprarlo e ricomprarlo costantemente perché davvero è un ottimo prodotto poi mi sono lasciata tentare da un'offerta, era un kit di tre gel doccia e naturalmente ho preso le tre profumazioni che mi ispiravano di più la prima è melagrana e pepe rosa poi ho preso mango e coriandolo e poi ho preso lampone e menta piperita questi sono sicura che andranno via abbastanza presto soprattutto poi in estate che magari mi capita di farmi la doccia anche più volte al giorno perché se fa caldo solo anche per rinfrescarmi un attimo magari io lo faccio e quindi sono sicura che non dureranno poi così a lungo poi ho preso uno shampoo specifico per capelli colorati questo in particolare è con fruttani di agave e serve per riattivare la microcircolazione del cuoio capelluto sono veramente curiosa di provarlo anche perché la mia è una tinta che se ne va abbastanza velocemente perché il rosso comunque non dura tantissimo diciamo che tende a scolorire abbastanza in fretta voglio vedere se magari con queste tipologie di shampoo riesco a farla durare un pochino di più comunque in ogni caso mi ispirava a provare uno shampoo di Yves Rocher perché non avevo mai provato shampoo di questa marca quindi insomma ero curiosa poi passiamo al sacchettino più piccolo dove ci sono delle cose in mini size perché ho preso anche delle cose un pochino più piccole volevo provare questo gel antifatica che dona sollievo, che rinfresca per i piedi io poi magari lo metterò anche un pochino nelle gambe o comunque nelle caviglie insomma nella parte diciamo bassa delle gambe e sui piedi per l'estate perché comunque io d'estate tendo diciamo così ad avere qualche piccolo problema di gonfiore soprattutto a un piede non mi chiedete perché uno solo perché non lo so, non l'ho mai scoperto ho fatto in passato un sacco di esami di visite mediche, di tutto e di più ma non hanno capito perché ogni tanto d'estate mi si gonfia appena appena e non immaginatevi un gonfiore gigantesco è una cosa quasi impercettibile ma che io noto quando mi metto le scarpe perché una delle due è più stretta poi non è che si veda tantissimo però io più che altro lo sento e quindi in estate mi succede voglio provare un pochino una cosa del genere per vedere se riesco ad avere un po' di sollievo comunque in ogni caso mi piace la profumazione alla lavanda e quindi la proverò volentieri poi mi hanno regalato un bagnoschiuma in mini size alla vaniglia questo è stato un omaggio ma me lo sono preso volentieri perché comunque il bagno d'orcia alla vaniglia a me piace poi le confezioni mini size quando poi viaggerò di nuovo io comunque le utilizzo poi ho preso un correttore illuminante questo è liquido io non ho mai provato il correttore liquido e non l'ho mai provato illuminante mi incuriosiva volevo vedere che effetto poteva avere sul mio viso e quindi ho deciso di prenderlo poi ho voluto provare un prodotto nuovo almeno nuovo per me perché io non lo avevo mai comprato e mai provato una maschera per capelli due in uno questa è per capelli colorati va applicata dopo lo shampoo bisogna lasciarla in posa e poi risciacquare questa mi incuriosisce tantissimo perché appunto per i capelli colorati volevo provare qualcosa ne ho preso due confezioni perché avevano solo la mini size quindi non avendo la confezione grande ho pensato di prendermi due piccoli poi sorpresa una volta arrivata in cassa mi hanno detto che con due di queste potevo averne un'altra in omaggio però mi hanno detto che potevo anche cambiare la tipologia quindi non necessariamente per capelli colorati e allora ho pensato di prendere questa che praticamente è una maschera sempre due in uno che però ha un effetto riparatore sul capello quindi per capelli danneggiati si può applicare prima dello shampoo oppure dopo lo shampoo va lasciata in posa e poi bisogna risciacquare ho pensato di provare questa non perché i miei capelli siano così tanto danneggiati perché in realtà non sono danneggiati però siccome li tingo magari subito dopo la tinta lo shampoo dopo diciamo quello dopo la tinta posso magari provare ad applicarla perché in ogni caso la tinta non fa proprio benissimo al capello quindi magari questo effetto riparatore chissà potrebbe essere una cosa positiva e quindi voglio provare e poi mi hanno fatto anche un paio di regalini mi hanno regalato due campioncini di crema idratante per il viso questa azzurra è 48 ore quindi idratante effetto 48 ore e invece questa qui verde è una crema ristrutturante giorno comunque sono sempre le creme idratanti che vanno benissimo soprattutto alla mia età che ho 41 anni e le creme viso che abbiano questo effetto ristrutturante o comunque antirughe devo cominciare ad utilizzarle anche se per fortuna non ho tutte queste rughe per il momento però prevenire è sempre meglio e poi una cosa che mi hanno regalato che mi è piaciuta moltissimo è questa busta che sembra un po' un sacchettino perché comunque ha i lacetti così che mi viene comodissima per quando viaggerò questa mi sarà utilissima tra l'altro è molto carino proprio il motivo che c'è davanti poi insomma è un regalo a me i regali fanno sempre piacere quindi va bene così questi sono tutti i miei acquisti Yves Rocher fatemi sapere se anche voi utilizzate Yves Rocher è una marca che a me piace tantissimo poi io ho il negozio proprio nel centro della mia città quindi mi viene anche comodissimo andare a vedere le cose andare ad acquistare quindi insomma quando ci passo davanti magari qualche volta entro da un'occhiata e poi faccio danni perché compro e spendo soldi va bene comunque io vi saluto come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme